Arnevale di Sciacca, oggi primo giorno di spettacoli, domani invia la sfilata dei carri da Via Cappuccini, si accederà alla festa da otto barchi, cinque dei quali con biglietteria per l'acquisto del ticket, scuole chiuse da sabato a mercoledì. Mafia, operazione Paspartù, la procura di Palermo ha concluso l'indagine, si avvicinano adesso le richieste di rinvio a giudizio per Antonello, Nicosia, a curso di Mino e la parlamentare nazionale d'Italia Viva, Giussi Occhio Nero. Sospese le gite di istruzione al liceo scientifico Enrico Fermi, al primo circolo didattico Giovanni XXIII, alla scuola media in Beges, decisione dei dirigenti scolastici che scaturisce dai timori di possibili contagi con il coronavirus. A Ribera è ufficiale, l'ex presidente di Coldiretti Alfredo Moulet sarà candidato a sindaco, lo sosterrà il gruppo dell'attuale amministrazione e anche l'ex deputato Peppe Rugolo, che dunque si ritroverà nella stessa coalizione con Carmelo Pace. Centro-sinistra all'attacco del centro-destra, mozione di sfiducia inconsistente e gestita in modo superficiale, sapevano di non avere numeri e che non ci sarebbe stata la possibilità di approvarla e se la prendono con Pasquale Montalbano. Niente elezioni di secondo livello all'ex provincia, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'ennesimo rinvio riservandosi di fissare una nuova data per il periodo compreso tra settembre e ottobre. Si insedieranno subito invece le assemblee dei sindaci. Un cordiale benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. In apertura ci occupiamo del Carnevale 2020, oggi al via la prima giornata con l'esibizione dei gruppi mascherati dei carri allegorici nel quartiere di San Michele alle 17. Alle 19 sarà la volta di Via Licata alla Chiazza e alle 21 dello spettacolo sul palco di Piazzangelo Scandaliato. Intanto sono quasi ultimate le operazioni di assemblaggio dei carri allegorici in via Cappuccini, da dove domani prendere il via la sfilata. Centinaia i curiosi che assistono al montaggio dei carri. Stamattina abbiamo incontrato alcuni carristi. Vediamo. Quasi tutte pronte in via Cappuccini a 24 ore dall'inizio dell'edizione 2020 del Carnevale di Sciacca, le otto associazioni che vi partecipano. Sono infatti ultimate quasi per tutti le operazioni di assemblaggio dei carri e da stamattina che ha finito dedica queste ultime ore ai dettagli e alle verifiche. Siamo quasi in definizione, abbiamo completato l'assemblamento del nostro carro, ora andiamo un po' a definire tutto il resto, ma siamo già a buon punto, quasi al 90%. Quest'anno tutto per tempo, siete un po' più rilassati rispetto agli altri anni? Sì, questo ce l'ha permesso il fatto che avendo completato in tempo all'interno del nostro locale ci permette, ci ha permesso una fase di montaggio con più accuratezza, con tranquillità. Le buone giornate ci stanno aiutando, sperando che questo tempo ci faccia compagnia per tutto il resto della manifestazione. Qual è il vostro progetto? Il nostro è Volere Volare, parliamo della nostra città che con la visibilità di Dolce e Gabbana, con il loro evento che hanno dato lustro al nostro territorio, con questo tappeto che loro sorreggono, che è uno dei famosi tappeti che loro hanno donato alla nostra città. Sopra abbiamo questa dea alata che rappresenta la nostra città che tende sempre a spiccare il volo in base alle sue bellezze, alle sue caratteristiche, ma sappiamo sempre che quando c'è qualcosa, qualcuno che cerca di spiccare il volo, c'è sempre qualcuno che va a tagliare le ali. Salvatore Leone della Saranno Famosi 2007, ci siamo, ti abbiamo portato via dal lavoro, stavate facendo gli ultimi arcoggiamenti riguardo ai movimenti? Sì, sì, ieri sei abbiamo finito di montare, oggi stiamo provando tutto per essere pronti domani al pomeriggio, è rimasto solo di definire qualcosa e poi saremo pronti per domani. Quando si accendono i movimenti, la prima volta, qual è la sensazione? La sensazione è che tutto si rompa, ma purtroppo siamo fiduciosi in noi stessi, sono parti meccaniche, come una macchina che si rompe oggi funziona e domani no, quindi c'è sempre lo spavento che qualcosa non va bene. Qual è il vostro progetto quest'anno, cosa portate? Noi quest'anno parliamo della Spagna, abbiamo Sino Caracappa che è sopra un dolo che rappresenta Sciacca, alle spalle abbiamo la Spagnola che rappresenta Bilbao, come l'assessore ha citato nella sua campagna elettorale. Che carnevale pensi sia questo? Cosa ti aspetti? Ci sono tanti carri di alta qualità e noi quest'anno, nonostante il quarto posto, abbiamo fatto sempre un buon prodotto, ma spero che il tempo ci accompagni. Siamo all'ultimazione dei lavori, le piccolezze e poi siamo già pronti, quest'anno molto molto prima. C'è stato diciamo subito dopo le feste natalizie, una forte accelerazione e poi perché si pensava, sai, specialmente noi che abbiamo iniziato un po' quel ritardo rispetto agli altri, invece alla fine siamo arrivati ben presto diciamo al traguardo, di finire prima e abbiamo fatto anche delle feste, ci siamo divertiti all'ultimo che è la cosa bella e una cosa che fa parte del carnevale. La gente ha preso l'abitudine di partecipare al montaggio dei carri in via Cappuccini ormai da lunedì sera praticamente? Sì, diventano tutti ingegneri, compagnia bella, è una cosa così, quella cosa là, fa parte anche del carnevale, il colorito del carnevale, anche questo. Otto barchi di cui cinque dotati di biglietteria per accedere al centro storico e assistere al carnevale di Sciacca, barchi aperti da sabato a martedì già dalla mattinata, disciplinate le aree di parcheggio, le vie di fuga e il piano di sicurezza. Ce ne parla in questo servizio Maria Genuarti. Messa in sicurezza del circuito del carnevale di Sciacca, collocazione dei presiedi sanitari, di protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine, disciplina della viabilità in tutta l'area urbana con l'istituzione delle aree di parcheggio. Sono alcuni dei contenuti della complessa ordinanza elaborata dalla Polizia Municipale per il carnevale di Sciacca del 2020, tenendo conto della novità del ticket di ingresso previsto da sabato 22 a martedì 25 febbraio. Partiamo proprio dall'accesso al circuito del carnevale. I varchi di ingresso saranno complessivamente otto, di cui cinque dotati di biglietteria. Quelli in cui sarà possibile acquistare il biglietto di accesso saranno in Viale della Vittoria, angolo via Valverde, in via Agatocle, angolo ex convento San Francesco, in piazza Carmine, all'altezza di Porta San Salvatore, in via Pietro Gerardi, all'altezza del vicolo Vaccarizzo e in via Roma, angolo piazza Matteotti. Chi ha già l'abbonamento potrà accedere anche da altri tre varchi che saranno collocati in via Figoli, all'altezza di piazza Lombardo, in vicolo Bevilacqua, lato via Licata e in via Porta di Mare, all'altezza di piazza Campidoglio. Varchi che saranno aperti già dalla mattinata, dalle ore 10 del sabato, lunedì e martedì e dalle ore 8 e 30 della domenica. A questi si aggiungono altri 15 varchi di chiusura del circuito, accessibili solo in casa o di emergenza e che saranno presidiati da personale della Futuris, la società che gestisce il Carnevale di Sciacca. Tra personale addetto alla protezione civile, alla sicurezza e al presidio dei varchi si parla di almeno 100 addetti. A ridosso dei varchi, inoltre, nel piano sicurezza predisposto dall'ingegnere Fabio Bivona per conto della Futuris, sono state previste le aree di attesa in piazza Libertà, viale Eleonora d'Aragona, villa comunale, villetta Lombardo e piazza Labisso. Fin qui gli aspetti relativi all'accesso al centro storico legato alla novità del ticket, ma l'ordinanza disciplina ovviamente anche la viabilità, le aree di fuga, i divieti di sosta e le aree parcheggio. Per gli autobus che svolgono servizio extraurbano, dal 22 al 25 febbraio la fermata avverrà nel quartiere della Perriera, nell'area prospicente lo stadio comunale Gurrera e non più nella via Gatocle. Gli autobus da turismo provenienti dalla statale 115 potranno sostare gratuitamente nella via Cansalamone, tratto in prossimità della via Dante Alighieri e nell'area di protezione civile della Perriera di fronte allo stadio alternativo. È previsto il servizio di bus navetta a pagamento da parte della società Aeternal con itinerario dalla Perriera, zona del campo alternativo, alla via Modigliani, altezza via Dotto Cansalamone e viceversa. Per le autovetture sono previsti parcheggi gratuiti nell'area di protezione civile dell'ex galoppatoio, nella via Lenne, via De Plate, nei piazza La Rosa, per ciò che concerne il quartiere della Perriera. Le altre aree di parcheggio sono piazzale Molo di Ponente, piazza San Pietro, via Catusi, via Modigliani, nel viale delle Terme, in entrambe le corsie di marcia, nel tratto dove è presente lo spartitraffico e nella via Agatocle, zona antistante, il Teatro Samonà. Ai diversamente abili sono riservati i parcheggi in piazza Don Luigi Sturzo, viale delle Terme e lato parco e nel tratto compreso tra la via Figuli e il cancello d'ingresso delle Terme. Carnevale di Sciacca chiudono le scuole. L'ordinanza è già stata inviata ai dirigenti scolastici della città di Sciacca. dispone alla chiusura di tutte le scuole saccensi da sabato 22 a mercoledì 26 febbraio. Domani dunque è l'ultimo giorno di lezioni con molte scuole dell'infanzia e primarie che effettueranno la festa in maschera e alcuni istituti superiori che hanno organizzato le assemblee. Poi sarà vacanza per i giorni clou del Carnevale di Sciacca e si tornerà a scuola giovedì 27 febbraio. Una collaborazione ai cittadini e ai commercianti sul fronte della pulizia, dell'igiene e del decoro nell'area del centro storico che sarà palcoscenico del Carnevale di Sciacca e quanto chiede il sindaco Francesca Valenti con l'invito in particolare ai cittadini a uscire ogni sera ai mastelli con i rifiuti a chiusura manifestazione. Lotta all'abuso di sostanze alcoliche durante i giorni di Carnevale, ci ha pensato la consulta giovanile di Sciacca ad avviare una campagna di sensibilizzazione per invitare soprattutto i giovani a non eccedere con l'alcol e a vivere la festa senza correre rischi per la propria salute. Su Instagram da domani alvia il contest fotografico dove chiunque potrà pubblicare foto di Carnevale che ritraggono forme sane di divertimento. C'è il servizio. Sara Vignanello, c'è dunque una campagna di sensibilizzazione contro l'abuso soprattutto di sostanze alcoliche durante i giorni del Carnevale promossa dalla consulta giovanile di Sciacca e rivolta in particolare ai giovani. Come nasce questa vostra iniziativa? Nasce dall'esigenza di dare un messaggio chiaro alla cittadinanza ovvero il fatto che sì ci sono dei giovani che vivono questa festa in maniera non particolarmente sana ma ce ne sono altri che vogliono goderla per quello che è cioè un momento di sano divertimento. Per questo stendiamo l'invito a tutti i giovani saccensi a prenderla come un sano divertimento che è quello che è. In che cosa consisterà questa campagna di sensibilizzazione? La nostra iniziativa consiste in un contesto fotografico che lanceremo sulla nostra pagina Facebook e Instagram tra oggi e domani. L'idea è quella di fotografare, permettere ai ragazzi di fotografare immagini della festa in cui si stanno divertendo in maniera sana taggare la consulta giovanile e poi uscirà una sorta di classifica delle foto più belle e più rappresentative di una festa da lucidi, di una bella festa. Ecco, durante questi giorni che precedono la festa siete stati anche impegnati per esempio nelle scuole o comunque ad incontrare i giovani per diffondere questo messaggio? Nelle scuole poco, in realtà ormai sappiamo bene che i giovani si raggiungono più per via telematica tramite i social. Noi siamo un buon gruppo, siamo già una ventina di persone quindi riusciamo a contattare anche in maniera informale un gran numero di ragazzi. Voi siete giovani, i componenti della consulta giovanile non potrebbe essere diversamente. Riscontrate che questo sia un grave problema durante i giorni del carnevale? Assolutamente sì, infatti l'idea di far partire l'iniziativa dai giovani e per giovani è per questo motivo perché possibilmente da adulti, un insegnamento dato dagli adulti viene ascoltato sicuramente ma secondo me ha maggiore efficacia se viene dai loro coetanei. Emanuele Bellitti, cosa vuoi dire ai giovani che si apprestano a vivere il carnevale? Io voglio dire ai giovani che si apprestano a vivere il nostro carnevale nel 2020 che non superano tutta la soglia dell'accordo generale che spesso a volte noi superiamo i giovani. Ci metto pure io perché sono un gran parte giovane ma ci mettiamo, dobbiamo essere billi ma consapevoli di non superare questa soglia di alcol molto alto che spesse volte nel nostro carnevale si supera in maniera elevata. Quindi faccio un appello ai giovani che si divertono in maniera così sana ma con grande consapevolezza di vivere il nostro carnevale e divertirsi come si deve. Una truppa di retreti GR Sicilia sarà a Sciacca domani 21 febbraio per realizzare un collegamento in diretta sul carnevale di Sciacca 2020 a partire dalle 7.30 le meraviglie del carnevale di Sciacca saranno documentate in diretta all'interno della trasmissione Buongiorno Regione. La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Antonello, Nicosia, Curzio Di Mino, Massimiliano Mandracchia, Paolo e Luigi Ciaccio e della parlamentare Giussi Occhio Nero. Sullo sfondo l'inchiesta denominata Passepartout. Prossimo passaggio la richiesta di rinvio a giudizio. Massimo D'Antonio. La prima volta che l'onorevole Giussi Occhio Nero si accompagnò con Antonello Nicosia fu per una visita al carcere Pagliarelli di Palermo. La deputata nazionale lo presentò alla polizia penitenziaria come un suo assistente parlamentare. I magistrati dell'antimafia però avrebbero appurato che disse una bugia perché in quella circostanza tra i due non c'era ancora alcun rapporto di collaborazione, cosa che sarebbe stata formalizzata soltanto in un momento successivo. E' questo uno dei punti nodali dell'inchiesta condotta dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia di Palermo Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì. Inchiesta culminata nei mesi scorsi con l'arresto di Antonello Nicosia e del boss di Sciacca a Cursio di Mino nonché di tre presunti loro favoreggiatori, i gemelli Paolo e Luigi Ciaccio e Massimiliano Mandracchia. I pubblici ministeri hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini agli indagati. Il prossimo passaggio verosimilmente sarà la richiesta di rinvio a giudizio nei loro confronti. La Occhio Nero, eletta con libri uguali, poi transitata nel gruppo parlamentare d'Italia Viva, è accusata di falso. Secondo i magistrati Nicosia avrebbe pilotato ad insaputa della deputata le visite in alcuni istituti penitenziari per incontrare detenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro che lui chiamava il primo ministro facendosi in qualche modo messaggero di notizie da veicolare all'esterno. La stessa Giuse Occhio Nero ai magistrati ha dichiarato di essere stata ingannata ammettendo come fosse Nicosia a scegliere gli istituti penitenziari in cui effettuare le visite ispettive, chiarendo così che nel corso delle visite in questione, mentre lei era impegnata nel giro tra sezione e celle ad acquisire informazioni dal personale della polizia penitenziaria, capitava che Nicosia si allontanasse e avesse così occasione di dialogare con i detenuti. E così come la DDA ha ricostruito proprio sulla base delle dichiarazioni della stessa parlamentare, nel carcere di Trapani Nicosia parlò con uno dei postini di Messina Denaro, l'ex sindacalista Santo Sacco. Ecco perché la procura considera la collaborazione tra Nicosia e l'Occhio Nero un escamotage per fare ingresso nelle carceri. Secondo l'indagine Antonello Nicosia un tempo vicino ai radicali avrebbe avuto una doppia vita. In tv parlava di legalità e diritti dei detenuti ma le intercettazioni disposte dagli inquirenti, tra le altre cose, rivelarono anche insulti a Giovanni Falcone e una indisposizione per l'intitolazione dell'aeroporto di Palermo a Falcone e Borsellino. La tesi difensiva di Antonello Nicosia è stata quella di avere millantato un potere di cui non disponeva e dunque di essersi inventato tutte le cose che diceva e che sono finite nelle intercettazioni che lo riguardano. La difesa di Accursio di Mino invece quella di non avere più alcun ruolo all'interno di Cosa Nostra essendone uscito dopo l'espiazione dell'ultima condanna. Inquirenti investigatori ritengono però che il contenuto delle intercettazioni acquisite agli atti nel corso dell'inchiesta inchiodino ai protagonisti di questa vicenda le loro responsabilità in un quadro generale nel quale di Mino Nicosia sono accusati di essersi occupati di affari illeciti in forme sistematiche di controllo del territorio tipiche del fenomeno mafioso pur in quello che veniva considerato dagli stessi magistrati come un momento di assoluta difficoltà della Cosa Saccense. Secondo gli inquirenti inoltre i due avrebbero progettato perfino un omicidio quello di un imprenditore di Sciacca da fare fuori secondo le intercettazioni in Marocco. Ancora di Mino viene considerato al centro di presunti suoi interessi negli Stati Uniti d'America. Problemi di erogazione idrica oggi a Sciacca a causa di un malfunzionamento alle pompe dei pozzi di Contrada Carboi lo ha comunicato alla gestione commissariale del servizio idrico integrato evidenziando che già nel corso della mattinata si è provveduto a ripristinare la regolare funzionalità dei pozzi Carboi ma che a causa del minor volume idrico accumulato nei serbatoi comunali la distribuzione idrica nella giornata potrà subire limitazioni e slittamenti. La normalizzazione della distribuzione idrica avverrà nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Si ripercuote sulla programmazione delle gite scolastiche la paura per la diffusione del coronavirus sospesi per il momento i viaggi di istruzione al liceo scientifico Enrico Fermi alla scuola media Agostino Inveges. Nell'uno e nell'altro caso le rispettive dirigenti scolastiche si riservano di valutare successivamente cosa fare in attesa dell'evolversi degli eventi e nella speranza di avere nelle prossime settimane notizie più rassicuranti. Sentiamo. Ci sono delle scuole cittadine che a causa del diffondersi del coronavirus con gli inevitabili timori tra le famiglie hanno deciso di sospendere al momento il programma delle gite scolastiche. Tra queste il liceo scientifico Enrico Fermi la cui dirigente Giussi Deliberto ha deciso di sospendere le pratiche relativa all'organizzazione che era già in fase piuttosto avanzata di un viaggio di istruzione che gli studenti di quinto anno avrebbero dovuto effettuare in Polonia proprio in questi giorni. Sospesa anche un'altra gita organizzata in Italia in particolare a Roma. Mi sono giunte diverse telefonate di genitori molto preoccupati ha riferito la preside perché la situazione in effetti è tuttora incerta e allora abbiamo deciso di fermarci in attesa dell'evolversi degli eventi e di notizie che siano più rassicuranti che garantiscano cioè al meglio la sicurezza di tutti. Il liceo scientifico potrebbe optare per delle gite di istruzione sul territorio nazionale anche se tra le ipotesi più accreditate c'è quella di coinvolgere i genitori degli studenti di quinto anno per stabilire insieme alle famiglie se organizzare o meno il viaggio di istruzione che solitamente per gli alunni dell'ultimo anno delle scuole superiori viene organizzato all'estero. Le gite scolastiche in programma per la prossima primavera sono state sospese e per lo stesso motivo anche dalla dirigente del primo circolo didattico Giovanni XXIII Gabriella Scaturro che dirige anche la scuola media Agostino Inveges. Le informazioni contenute nelle circolari che ci sono arrivate dal Ministero della Salute sono didascali che al momento tutte le notizie sulla diffusione del virus sono improntate sui dubbi. Nessuno può sapere se, come, dove e quando il coronavirus possa essersi spostato dal focolaio originario, non mi sento di fare correre rischi a nessuno, ha detto la dottoressa Scaturro, che dunque preferisce rimandare ogni comunicazione ufficiale al termine delle riunioni con il suo staff. Riunioni che serviranno anche per decidere se sospendere o meno le attività di un progetto Erasmus che prevede per i prossimi giorni l'arrivo a sciacca di studenti della Polonia che saranno ospitati dalle famiglie degli studenti dell'Inveges. Pare infatti che alcune famiglie saccensi abbiano manifestato dei timori ad ospitare i ragazzi polacchi, timori legati anche in questo caso alla paura che ha ormai generato un po' ovunque la diffusione del coronavirus. Amministrativi a Ribera, è ufficiale, l'ex presidente provinciale e regionale della Coldiretti sarà candidato a sindaco alle elezioni del 24 maggio prossimo. L'ufficializzazione è arrivata nelle scorse ore ed è già stata programmata anche la presentazione della candidatura e della coalizione che lo sostiene in programma domenica mattina alle 10.30. Uomo da sempre vicino alle posizioni di Giuseppe Rubolo, la candidatura di Alfredo Molè sostenuta proprio dall'ex parlamentare che dunque si ritroverà nella stessa coalizione di Carmelo Pace. Sulla candidatura di Alfredo Molè è arrivato l'ok anche da parte del Partito Democratico. Saranno cinque le liste di candidati dal Consiglio Comunale di questa coalizione, una lista del candidato sindaco in cui troveranno spazio candidati che fanno riferimento a Peppe Rubolo, una lista espressione del sindaco uscente Carmelo Pace, una della componente che fa capo all'onorevole Roberto Di Mauro, un'altra all'ex parlamentare Salvatore Cascio e la lista del Partito Democratico. Con Mulè salgono a tre i candidati a sindaco di Ribera dopo l'annuncio di Matteo Rubolo e Francesco Montalbano. Il centrodestra prima ha gestito in modo superficiale la mozione di sfiducia e poi accusato ingiustamente il Presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano. Questo il tono della replica di oggi di sette consiglieri del centro-sinistra. Sentiamo. Prima hanno gestito in maniera a dir poco superficiale una mozione di sfiducia del tutto inconsistente, poi hanno individuato in Pasquale Montalbano il capo espiatorio perfetto per un autentico depistaggio politico nel tentativo di spostare l'attenzione del cittadino dal merito vero della questione. E questa è la conclusione a cui sono giunti i consiglieri comunali che sostengono l'amministrazione guidata da Francesca Valenti nel dibattito fatto a colpi di note legali sulle modalità di conduzione della seduta consigliare del 3 di febbraio. In una nota firmata dai consiglieri Vincenzo Bonomo, Simone Di Paola, Ezio Di Prima, Elvira Frigerio, Valeria Gulotta, Fabio Leonte ed Alberto Sabella, si stigmatizzano quelle che vengono definite aggressioni verbali da parte di otto consiglieri comunali del centro-destra nei confronti del presidente del Consiglio. Appare chiaro ai firmatari della nota, dove manca la firma di Paolo Mandracchia, come i protagonisti di questa azione abbiano gestito male la mozione di sfiducia negli argomenti, nelle contestazioni e nei numeri, tanto da far emergere il terrore da parte degli stessi firmatari di metterla in discussione quando se ne è presentata l'opportunità di farlo, ben sapendo che la stessa mozione non sarebbe mai passata. Insomma, per la coalizione Valenti il tentativo è stato quello di fare in modo che la città parlasse di altro che fosse distratta da altri temi, nella speranza di farle dimenticare quella che viene definita una delle pagine politiche più tristi degli ultimi anni. Per i consiglieri che sostengono l'amministrazione, una mozione di sfiducia, data la solennità e la gravità della questione, va presentata quando questa ha solide basi argomentative e numeriche per essere trattate e messe in votazione. Quando invece gli stessi presentatori fanno di tutto per prendere tempo pur di non discuterla, chiaro il riferimento alla richiesta di rinviare alla discussione a quando in aula ci fossero stati tutti e 24 i consiglieri comunali, emerge tutta la fragilità della proposta. Ecco allora, sostengono Bonomo di Paola, Di Prima, Frigerio, Gulotta, Leonta e Sabella, che bisognava trovare il diversivo ed un cattivo contro cui prendersela. Da qui l'attacco a Pasquale Montalbano, a cui, osservano i consiglieri, non può essere contestata la sua assoluta terzietà e capacità di equilibrio e giudizio. Per i consiglieri, dunque, Montalbano ha interpretato il regolamento alla perfezione ed è questa la risposta a coloro che ieri lo hanno definito non più legittimato nel suo ruolo. Il presidente Montalbano, scrivono i consiglieri, resta al suo posto a svolgere le proprie funzioni, come è sempre fatto, con pacatezza e moderazione e non ha bisogno di vedersi riconosciuta alcuna legittimazione da parte di alcuno, in quanto tale legittimazione gli proviene dall'elezione che lo ha visto elevarsi alla guida dell'aula. L'invito finale agli otto colleghi del centro-destra è quello di cessare nel perseverare in una linea di condotta che non produce, non porta nulla alla città, città che pretende che si ritorne a parlare delle questioni vere e non del solito inutile, sesso degli angeli. Sempre più disastrate le condizioni del manto stradale di Vialdo Moro in Contrada Marchesa, il genitore di un alunno che frequenta l'istituto, denunciare il pericolo al quale quotidianamente vanno incontro gli studenti dell'alberghiere dell'Agrario, istituti che sono ubicati in Contrada Marchesa. Giorni fa, scritto il genitore di un alunno dell'Amato Vetrano, ho accompagnato mio figlio in macchina, constatando le pessime condizioni del manto stradale, oltre alla scarsa illuminazione nelle ore serali. Già in macchina percorre il tratto di strada pieno di buche, abballamenti e una impresa. Diventa una situazione di estremo pericolo, aggiunto per i tanti giovani che si recano a scuola con i mezzi a due ruote. L'appello che questo genitore ha rivolto all'amministrazione comunale è quello di ripristinare al più presto le normali condizioni del manto stradale, garantendo la sicurezza di tutti quei giovani che giornalmente percorrono la Contrada Marchesa per arrivare a scuola. Adesso è ufficiale, niente elezioni di secondo livello per le ex province inizialmente previste per il prossimo 19 aprile, con buona pace di chi puntava più o meno apertamente allo scranno provinciale. L'Assemblea regionale siciliana ha votato per l'ennesimo rinvio, riservandosi di fissare la nuova data tra settembre ed ottobre. Si insederanno subito invece le assemblee dei sindaci. Sentiamo. Ancora una volta non sarà scritta la parola fine sul commissariamento delle ex province, oggi liberi consorsi. L'Assemblea regionale siciliana, come già aveva fatto intendere la settimana scorsa, ha deciso di rinviare, ufficialmente e per l'ennesima volta, le elezioni di secondo livello che avrebbero dovuto portare alla guida politica degli enti. Resta il commissario, come da quasi otto anni a questa parte. Il voto per i consigli dei liberi consorsi e delle città metropolitane era stato fissato per il prossimo 19 aprile. Nulla di fatto dunque, con buona pace di chi, nell'agrigentino, puntava più o meno tacitamente allo scranno provinciale. Sala d'Ercole ha già fissato una nuova finestra temporale all'interno della quale si dovrebbero svolgere le elezioni, ossia fra il 15 settembre e il 15 ottobre. Un rinvio quindi di circa cinque mesi, con la data precisa che sarà fissata in un secondo momento. Il condizionale, in ogni caso, è ormai d'obbligo. La data delle elezioni, infatti, è stata decisa e poi rinviata decine di volte, lasciando le ex province in uno stato di commissariamento perenne, il commissariamento più lungo, probabilmente, nella storia della regione siciliana. Su tale argomento, da crocetta musumeci, nulla è cambiato. Anzi, la sensazione è che non si sappia di preciso come uscirne. Rispetto al passato, l'unica novità sostanziale è che Lars ha deciso che, nel frattempo, si potranno insediare le assemblee dei sindaci, che sono l'organo base delle ex province. Successivamente, poi, con le elezioni, si stabiliranno i vertici politici. Lars ha infatti approvato un emendamento al testo proposto dal deputato del Partito Democratico, Giuseppe Lupo, che consente l'insediamento di questa assemblea, prevista in teoria tra aprile e maggio. Molto critico per il rinvio delle elezioni, il Movimento 5 Stelle, che non ha partecipato al voto d'aula. Siamo stati sempre contrari alle province. Fino a quando non si affronterà il problema dei servizi al cittadino, votare ora o votare a settembre non fa nessuna differenza.